Il cancro rappresenta una delle principali cause di mortalità a livello globale. La diagnosi precoce è dunque fondamentale per migliorare l'esito dei trattamenti e la prognosi dei pazienti. Lavorando in quest'ottica, il mio gruppo di ricerca presso il Politecnico di Torino ha sviluppato e brevettato un innovativo sistema per la rilevazione di segnali ottici e la formazione di immagini di cellule tumorali e tessuti. Tale tecnologia si rivolge ai tumori solidi, in particolare al colon retto, e sulla sua individuazione in fase iniziale, antecedente la formazione di metastasi. Tale tecnologia di imaging è basata sull'impiego di ultrasuoni e nanoparticelle come mezzo di contrasto. Le onde ultrasonore causano la cavitazione acustica, generando sia un segnale ecogenico, sia luminoso attraverso il fenomeno della sonoluminescenza. Il segnale viene incrementato dalle nanoparticelle, dotate di nanocristalli attivi per la diagnostica ultrasonora. Queste agiscono come un nanoagente di contrasto, con specifiche proprietà ottiche, in grado di assorbire, diffondere e modificare lo spettro luminoso ed acustico. Sono caratterizzate da un profilo biomimetico sicuro e progettate per distribuirsi selettivamente nel tessuto tumorale, permettendo quindi una visualizzazione specifica e con una sensibilità e una precisione nettamente superiore rispetto alle tecniche tradizionali. Grazie all'impiego di algoritmi di intelligenza artificiale si può ottenere una ricostruzione dettagliata dell'immagine, filtrata dal rumore di fondo e un supporto all'identificazione precisa dei margini tumorali anche in presenza di poche cellule e la differenziazione dal tessuto sano. Questa innovativa tecnologia di imaging ha il potenziale di aprire nuove prospettive tecnologiche e industriali nel campo dei metodi e della strumentazione di diagnosi, combinandola anche a strumenti digitali per ottenere importanti avanzamenti nel settore della diagnostica avanzata. Grazie a tutti.